È l'ora della scuola di medicina della dottoressa Peluscio. Gli infermieri sono molto importanti. Come farei io senza Alli? Oggi voglio presentarvi una mia amica, l'infermiera Samantha. Grazie Dotti! Cosa vuol dire fare l'infermiera? Vuol dire avere l'occasione tutti i giorni di incontrare tanti pazienti diversi. Sei pronta per la visita? Hai mai sentito il battito del tuo cuore attraverso uno stetoscopio? A me piace fare usare il mio e i miei piccoli pazienti. Così possono sentire che il suono fa il loro cuore. A volte gli faccio ascoltare il mio. Oppure quello della loro mamma o del loro papà. Il cuore fa un suono tipo tum 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 tum. Questo è il battito del tuo cuore. Abbiamo un paziente importante e lo tratteremo come si deve. Un'altra cosa che facciamo di solito è quella di misurare la temperatura corporea. La temperatura è sempre un buon segnale per capire come sta il tuo corpo in generale. Normalmente quella giusta è di 36 gradi e mezzo. Ogni volta misuriamo anche la tua altezza e il tuo peso. Due cose semplici ma molto importanti. L'altezza serve per capire se stai crescendo in modo corretto. E il peso per controllare se stai mangiando bene e se stai facendo sport nella giusta misura. Che non ti piace essere un'infermiera? Certo! Certissimamente! Quando ero piccola avevo paura del dottore. Ed è per questo che ho scelto di fare l'infermiera. Per conoscere meglio questo mondo e per aiutare le persone. Amo fare l'infermiera perché ogni giorno lavoro insieme ai dottori e agli altri infermieri. E insieme formiamo una squadra. Conosciamo bambini meravigliosi, proprio come te. E ci impegniamo ogni giorno per farle stare meglio. Questa è la cosa che mi piace del mio lavoro. La scuola di medicina della dottoressa Peluche è solo su Disney Junior.